In questo piccolo tutorial ti spiego come aggiornare così la scheda grafica 1660 Super per quelli che hanno preso una scheda grafica tanto per arrangiarsi con un budget che avevano e vogliono anche aggiornare i driver della propria scheda video è possibile farlo attraverso il programma Nvidia App oppure attraverso un driver che puoi scaricare su questo sito qua dei vecchi driver di Nvidia e dei nuovi basta che scegli così GeForce 1660 Super quindi la 16 serie 1660 Super Windows 11 o Windows 10 italiano e fai trova e ti troverà così l'ultimo driver che hanno rilasciato per le schede grafiche Nvidia che risale al 17 di settembre 2024 qua puoi andare direttamente su vedi e fai su download scarica e installa così il driver oppure puoi farlo semplicemente grazie al programma Nvidia App scarichi così la versione beta è molto semplice da scaricare installi e poi una volta fatto scrivi qua sopra Nvidia ed eccolo qua il pannello ovviamente su Nvidia App tu puoi gestire e configurare la grafica sui giochi puoi scaricare e installare i driver puoi riscattare anche i premi che rilasciano su Nvidia mi raccomando fai anche accedi così ti crei un account oppure accedi con un account google tuo vai su driver nuovo, driver Nvidia, studio oppure drive game ready aggiorni sempre finché non trovi gli ultimi aggiornamenti rilasciati e quindi quello che mi resta da fare è cliccare su installa e installo così i driver per la mia scheda grafica faccio installazione personalizzata inserisco tutti questi componenti e faccio continua ed ecco che si sta installando la scheda grafica per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao